Un viaggio col botto per i pendolari aretini non perché il treno sia stato finalmente in orario, ma perché il botto c'è stato sul serio. È accaduto nel pomeriggio del 21 di maggio all'interno del regionale 2313 Firenze-Roma con partenza alle 15.09 che transita dal Valdarno aretino e anche dalla città di Arezzo. Prima un botto secco, poi le schegge di vetro che colpiscono di striscio due passeggeri. Ad andare in Frantumi è stato il vetro divisorio del vano Portabagagli a causa di una frenata che ha fatto chiudere di scatto la porta, tesi poi confermata anche da Trenitalia. Ad essere stati colpiti sono stati due passeggeri di Figline. Eravamo ancora nella zona di Firenze, racconta uno dei protagonisti, e una pioggia di schegge ha colpito me e un'altra viaggiatrice di Figline, per fortuna senza conseguenze. I due sono stati poi medicati dal capotreno. Inutile ricordare che questo è l'ennesimo piccolo incidente che i pendolari subiscono. Ricorderete l'episodio del finestrino che si staccò e che poteva, anche in quel caso, ferire gravemente alcuni passeggeri. La rabbia corre soprattutto sui social network, dove i pendolari, attraverso le pagine dei vari comitati, si scambiano esperienze e commenti. Una piccola, grande valvola di sfogo, in attesa che le loro denunce abbiano finalmente una risposta concreta. Grazie.